Ciao ragazzi sono SuperSeba e benvenuti in questo nuovo video Allora, adesso che si avvicina Sanremo, si avvicina la prima serata in quel punto dove tutti vedranno il festival di Sanremo in prima serata su Rai 1 e oggi mi è venuta questa idea che volevo proporre a voi appunto non sarà come al solito una carriera allenatore che vi faccio sempre qui sul mio canale mentre sono in live tanto quello che sto facendo, sto facendo per il momento la carriera allenatore con il Tottena che lo sto facendo da giorni e comunque stasera nonostante che ci saremo sarò in live per fare il diciottesimo episodio della carriera allenatore con il Tottena ma questa carriera allenatore che è quello che vi sto dicendo non è quella che vedrete tutti i giorni qua sul mio canale ma è per voi questo ve lo consiglio per voi una cosa che non avete mai fatto nella vostra vita andando a giocare appunto su FIFA allora con la nuova modalità Crea l'8 squadra e la carriera allenatore all'interno di FIFA 22 avevo deciso appunto di venire in mente questa idea perché non fare una carriera allenatore con la Sanremese Calcio appunto per chi non conosce questa squadra la Sanremese Calcio è una squadra che gioca nelle categorie basse che gioca in Serie D e aveva vinto una Coppa Italia dilettanti nella stagione 2015-2016 e quindi se vi piace come idea quella che vi sto consigliando a voi che è appunto Miss Super Seva vi consiglia di provare anche voi di realizzare appunto ricreare nel gioco una carriera allenatore con una squadra che non esiste e che non è presente nel gioco ma quella che vi sto parlando è che voglio consigliare a tutti voi di realizzare in occasione del Festival di Sanremo fare una carriera allenatore con la Sanremese Calcio e quindi se vi piace questa idea magari ragazzi vi manderò alcune foto come se fosse un video tuttora vi mando alcune foto così vi spiegherò appunto ci scrivo nei post come realizzare la Sanremese Calcio su FIFA 22 e quindi questo è solo un consiglio realizzare questa carriera allenatore con la Sanremese Calcio è una mia idea che mi è venuta in mente appunto in occasione del Festival di Sanremo quindi se vi viene in mente questa idea appunto di buttare avanti la vostra fantasia di scatenare la vostra fantasia è qui su FIFA appunto realizzare una squadra che non esiste per quanto riguarda appunto sto facendo appunto questo video per dirvi questo consiglio vi dico solo consiglio appunto perché volevo solo consigliare per voi di realizzare per voi appunto una carriera allenatore con la Sanremese Calcio non è che la devo fare io ragazzi è solo un consiglio da dare a voi appunto quindi provateci anche voi a realizzare appunto questa idea di realizzare una carriera allenatore con una squadra che non esiste come la Sanremese Calcio quindi Mr. Superseva vi consiglia appunto in occasione del Festival di Sanremo di andare a fare una carriera allenatore con la Sanremese Calcio provateci anche voi ragazzi e poi voglio vedere che cosa fate che cosa farete di bello comunque vi scriverò tutti i post come se fosse un video tutorial su come realizzare la Sanremese Calcio su FIFA 22 e quindi ragazzi questo è solo il video appunto che vi sto facendo è quello che vi ho raccontato e vi sto dando consigli per voi e allora quindi se il video vi è piaciuto lasciate mi piace commentate iscrivetevi al canale mettete la campanella quello su Superseva è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao alla prossima e come sempre viva Sanremo